La robotica e l'intelligenza artificiale al servizio della medicina. La quindicesima edizione del Festival della Salute di Siena ha presentato anche il lavoro d'avanguardia del Laboratorio dell'Università di Siena, specializzato nel ridonare la presa, ma anche nel restituire la possibilità di avere e poter trasmettere sensazioni come il tatto. Dario Moricone. Un Alexio Magistralis che porta chi ascolta nel futuro prossimo venturo della robotica. Il professor Domenico Pratichizzo ci apre le porte del suo laboratorio nell'Università di Siena. Oltre 20 ricercatori, progetti molto concreti e la scelta di percorrere strade diverse da quelle usuali. Tecnologie robotiche indossabili per la manipolazione pensate per chi, per esempio, una mano ce l'ha ancora ma non è più funzionante, come nel caso di una persona colpita da un ictus. Abbiamo inventato e sviluppato un braccialetto, ok, che è robotico chiaramente, che a un certo punto si srotola e diventa un pollice opponibile, il sesto dito robotico. Questo sesto dito robotico consente alla persona che ha avuto un ictus di recuperare la funzionalità di afferrare, per esempio, una bottiglia. Se afferra una bottiglia con il sesto dito robotico, con l'altra mano può, per esempio, svitare il tappo e bere. Un sistema che ingloba anche tanta intelligenza artificiale, perché il sesto dito si adatta a chi lo indossa. Questo robot indossabile lavora in simbiosi con il controllo sensorimotorio biologico del soggetto. Quindi qui c'è un sistema di intelligenza artificiale che si adatta, minuto per minuto, al comportamento della parte umana di questa collaborazione. E poi tecnologie applicate alla telemedicina, sistemi che permettono di sentire a distanza attraverso il tatto quello che un paziente non può raccontare, solo a parole. Nella televisita c'è l'interazione del medico con il paziente, audio-video, ma non c'è la possibilità di palpare il paziente. Per esempio, di sentire un linfonodo alla base del collo. Il soggetto a casa mette un ditale, si tocca, questa interazione tattile viene digitalizzata, viene trasmessa a distanza al medico e il medico ha un altro ditale che riproduce sul suo polpastrello le stesse interazioni tattili che il soggetto sta sentendo e percependo su se stesso. Tecnologie robotiche a distanza utilizzate anche in altri settori, dalla possibilità di guidare una persona non vedente a distanza a speciali bracciali che aiutano i pazienti parkinsoniani a camminare. Start-up sono state create per trasformare questi prototipi in oggetti accessibili, un modo per creare valore economico, ma anche sociale, permettendo a chi ne abbia bisogno di poter usufruire di sistemi che possono migliorare la vita.